Oggi siamo su The Last of Us Part 2 e ci eravamo lasciati che avevo ucciso quelli nella caffetteria, nella libreria e nella libreria ho trovato un libro che è uno... non ci sono infatti là che era la guida alla... mi ha dato il silenziato non capisco perché ci stiamo ritirando non ci stiamo ritirando, andiamo in missione sono serviti mesi per prenderla sicura i pezzi grossi c'hanno quello che c'hanno... credo ... ... ... c'è qualcuno... vado a controllare ... 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 Grazie a tutti Mi stanno cercando Tutto ok? Tutto tranquillo Levate da lì cecchino Tutto ok? 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 Tutto ok Bene sono finito Non ho sprecato munizioni Ma come da dove si esce? Siamo appena entrati ciccia Devo lootare tutto E che le volevamo lasciare indietro Tutte queste belle munizioni Vabbè ricordatevi sempre di lo stacca Allora E ora? Dobbiamo superare il muro dei fressiti Gli edifici sono dall'altra parte Guardate intorno Deve esserci un varco Sì di qua c'era un varco Vieni proviamo da qui Questa era dall'altra Raga un sacco di colpi Medikit un po' meno Senza teoria Dai vieni qua Dammi la mano Ok E' bello come la mano ti segua Ehi L'edificio circolare Sembra lo studio tv della tua mappa Già Forza Sì E' bello Non so come avrei fatto finora senza dubbio Ma guardati Piantala Non ti avrei mai lasciata sola Che cazzo è stato Era una trappola Una cosa? Trappole esplosive Guarda dove metti i piedi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao belli. Intelligenti ragazzi. Grazie a tutti. Va bene dai. Non ci poteva andare. Cazzo. Sto bene. Forza. Non ci poteva. Non voglio neanche pensarci per ora. Eh vabbè. Eh vabbè. Che bella l'idea. Mi piace. Lo voglio pensare. E mi basta che... Un amico di Joel. Che aveva minato un'intera città. E la gente come girava. C'era solo lui. Ah. Ah. Ehi. Cazzo. 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 Io invece no. Proprio non ci credo. Ma si è ridotta questa città. Boston non era così vero? A Boston non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno posto troppa resistenza. Vedi lo studio tv? Sì. Da quella parte. Più in alto. Wow. Altri corpi. Crivellati di colpi. Tommy è passato di qua sicuro. Scommetto che è andato di là. Io gli stingero la mano a Tommy cioè. Te non ti accovacci niente. Fermati. Trappola. Merda. Che occhio. Se ci veniva lei esplodeva ridere. Sono ovunque. Saranno per gli infetti. Eppure. Un passo in più. Sì. Stiamo attenti. Come le disinnesco io queste cose? Fantastico. Funziona. Sì. L'ho imparato da Joel. Come non farci sentire. Parte 1. Buongiorno clicker con un mattone. Sì. 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 Oddio. 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 Sono morto. Beh. Amore. Amore. Poi mettono le trappole per terra. No. De nuovo. Sì. Fanno un botto ste cose. Non so se esplodeva. Hanno riempito lì. Dubito passano spesso di qua a vista la situazione. Dove faccio esplodere tutto. Di nuovo quel disegno. Ah. No. 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 Prevenire è meglio che curare. non so il codice bene allora devo vedere quante cifre proviamo con 5,5 1,0 3,3 e non va voda niente allora va a vedere qua le ultime cifre 6,5,5,5,0,1 6,5 6,5 5,5 5,5,0,1 No, come? 3-3-0-1-5-5 Eh Boh Allora Va bene dai Io direi che Per oggi è tutto Ora cercherò di aprire la cassaforte Quindi Ciao gente